ciao a tutti ragazzi sono qui per recensirvi un pacco che ho ordinato per posta con corriere poste italiane vado su ebay vai bene il comprato raga non è un questa volta non è da non è sottile non si tratta di software come sempre non è il software non si tratta di software ma si tratta di un lego sapete che cos'è questo è il set di lego city è il calendario dell'avvento natalizio di lego city del 2021 760 303 vedete 760 303 che sarebbe il calendario il nuovo calendario dell'avvento natalizio dell'anno l'avvento una cosa è tutto bello con i 24 regali poi ci sono i sei personaggi da qui abbiamo fendrick come babbo natale betty la ladra charlie keeper e sempre nella nella della della spazzatura e raccogliere la spazzatura sam grizzled il poliziotto bob il pompiere e top head tom allora questi qui lo aprirò ovviamente oggi è il giorno 10 novembre lo aprirò praticamente come come sempre dal giorno numero 1 fino al giorno numero 24 con la casella corrispondente al giorno bene questo è tutto ne ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi